Tocca terra con almeno dieci minuti di anticipo, l'elicottero che porta Papa Francesco a Carpi. Il campo da rugby, reso pista d'atterraggio per l'occasione, si affretta a stringerlo in un abbraccio accompagnato dai canti e dalle voci dei tanti assiepati dalle prime ore del giorno lungo il suo perimetro. Di notte la città non è mai andata a dormire, nell'attesa appassionata e sentita di un incontro ravvicinato. L'elicottero atterra e comincia il viaggio del Santo Padre lungo le crepe di questa terra scossa cinque anni fa dal sisma che l'ha segnata. La prima stretta di mano è quella per Monsignor Francesco Cavina. Il Vescovo di Carpi ha ancora fresca l'immagine e l'impatto sui suoi fedeli della riapertura della cattedrale lo scorso 25 marzo. Ma questi sono giorni di comunità anche laica, la stessa che comunque si sente raggiunta dal messaggio di questo Francesco e condivide i passi per quanto lenti della ricostruzione. Il corteo di benvenuto vede anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, il presidente della provincia Giancarlo Muzzarelli ed il sindaco Alberto Bellelli. Saluta, sorride Papa Francesco e già si propone nel primo fuori programma che lo porta vicino alla sua gente. Anziché imboccare i pochi metri che separano la Papa Mobile dall'uscita su cui campeggia lo striscione del rugby Carpi che va in meta con Papa Francesco, l'inconfondibile automobile bianca con vetro protettivo compie un ampio giro e vira a destra per avvicinarsi a strettissima distanza ai tanti dietro la rete di protezione del campo di atletica. La percorre per tutta la sua lunghezza Papa Francesco come a non voler mancare un solo metro di coloro che attendono da lui un saluto, un segno di speranza, di rinascita e di ricostruzione. Non fa tendere oltre anche le diverse migliaia, circa 80, che lo attendono lungo il tragitto che lo condurrà in Piazza Martiri per la solenne cerimonia e l'Angelus che il mondo segue da Carpi.